Allora, mi chiamo Fausto, ho 65 anni e sono pensionato. Le mie letture preferite sono i libri di Adesso l'ultimo che ho letto e La vedova scazza di Lifoi. Altri in genere dei libri della Mondadori e qualcosa sono appassionato ai libri delle famiglie aristocratiche italiane. Altri libri, libri sportivi, cioè che parlano dei calciatori principalmente e poi di tutto in generale.